ciao ragazzi come avrete capito dal titolo sicuramente ho una bella rogna con un ammortizzatore posteriore sicuramente perde un bel po di olio me ne sono accorto che saranno un paio di settimane fa perché continuo a sentire dei rumori strani come di ferro di lamiere che vibrano non ho mai notato svarioni di tenuto della macchina la macchina tira dritta come sempre tirato e adesso smonterò la ruota perché voglio capire se effettivamente dipende dall ammortizzatore che sta perdendo olio o se c'è qualcos'altro come potete vedere è bello sporco adesso intanto gli darò una pulita poi vediamo ok ammortizzatore pulito guardando in questi fori qua dove si va a attaccare la molla ho scoperto una cosa che forse è quella che faceva il rumore guardate cosa ho trovato ebbene sì un pezzo di molle che dovrebbe essere proprio circa lì nella parte a sinistra in alto forse il rumore era quello lì che rimbombava ora l'ammortizzatore è pulito andiamo a sentire se vibra se fa ancora tutto quel suono metallico che faceva prima era proprio la molla era proprio quel pezzo che poi era la punta la punta della molla era quello che faceva il rumore meno male per ora rimaniamo così vi tengo aggiornati ragazzi ciao grazie